E' l'esercito che gestisce per ora i soccorsi e le operazioni nella città di Tianjin, la quarta della Cina, devastata da una gigantesca esplosione che ha distrutto la zona industriale. Il computo delle vittime di almeno 50 persone, diverse decine, risultano però ancora scomparse, centinaia i feriti distribuiti in vari ospedali, molti in condizioni disperate, cosa che potrebbe far aumentare il numero dei morti. L'esplosione in una fabbrica di prodotti chimici, ma non è ancora chiaro come questo devastante incidente sia potuto accadere. Dentro al paese si è scatenata una gara di solidarietà, ma i militari non vogliono che dei civili si avvicini a zone pericolose, esiste ancora il rischio di altre esplosioni. A peggiorare la situazione è il fatto che non si sa bene che cosa ci fosse realmente nella fabbrica della Rui Hai saltata in aria. La violenza della refragrazione è stata tale che Greenpeace ha fatto supposizioni che per ora non trovano conferma ufficiale. Il timore è soprattutto nelle condizioni atmosferiche delle prossime ore. E' prevista pioggia e questo potrebbe aiutare a controllare gli incendi che ancora ardono, ma potrebbe anche alterare i prodotti chimici che si suppone fossero stoccati nelle fabbriche. Reagiscono all'acqua e sono estremamente instabili, come il cianuro di sodio.